Nel primo appuntamento infrasettimanale con la Coppa si rivede il lido di Ostia Fuzzal che liquida il Tivoli con sette reti, chiudendo il discorso qualificazione. Anche il CT Euro fa il suo con i cinque gol all'Atletico Civitavecchia, ipotecando il passaggio del turno. Nel big match dell'Olgiata il Ciampino di Ranieri si dimostra superiore all'Olympus, almeno sul piano del risultato. I risultati qua in queste partite qui sono sempre un po' a doppia vettura. Diciamo che siamo partiti male, abbiamo concesso troppo campo, poi paradossalmente dopo oltre a zero abbiamo sbagliato. Dovevamo chiedere la partita definitivamente e lì abbiamo fatto qualche ingenuità. La squadra di Cocco invece dovrà fare una partita perfetta per recuperare. Purtroppo c'è stata soltanto una squadra in campo. Abbiamo fatto la partita noi, loro quattro di riporta sono decidi a vincere la partita. Bravi e fortunati. Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi perché hanno fatto una prestazione eccellente. Certo 3-1 è dura, però la partita di ieri mi dà tanta speranza. Continua a vincere la Mirafin, pari in Gymnastic Lazio e Albano Civitavecchia. Cade inaspettatamente la Capitolina sul campo del Palestrina. Primo sorriso per il Ferentino.